Siria, uno degli stati più pericolosi al mondo. Sicuramente anche solo al pensiero di viaggiare lì potrebbe spaventare, ed è comprensibile. Guerra, terrorismo, epidemie, esplosioni, sono solo parte di ciò che ha subito questo paese negli ultimi dieci anni. Sì, è per l'airquake o per gli isoli? Però vi chiedo una cosa, provate per un attimo a lasciar da parte il pregiudizio, il passato recente di questo paese, e seguite bene questa storia, perché vi voglio mostrare che anche qui c'è del bello, e che valga la pena venire a visitarla. Sei da Malula? Sì. E ti piace vivere qui? Sì. Io amo Malula con i bambini. Ho studiato qui in Malula per 12 anni. Ho andato nel Damasco per 3 anni in l'università. Solo 3 anni! La scuola è 5 anni. Quindi si deve finire 5 anni. Sì. 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 tutti i gruppi armati, tutti i giovani, i figli e i figli si avessi una possibilità, avessi un paese? o avessi qui? se hai una possibilità, avessi un paese? non. resta qui. si, hai una vista bellissima. è una vista molto bellissima. Maloula è un'unico solo nel mondo. questo è il hotel. come vi ho detto, quando gli gruppi venivano qui, la prima cosa che vogliono controllare è il hotel, perché è stato un posto strategico. è stato fortificato, se qualcuno vuole scegliere o scegliere, uno sniper è sufficiente per controllare il whole town. e tu ancora hai un sogno? la prima volta, per 10 anni, ho scelto un hotel in Maloula. e un ristorante. si, ho scelto specialmente. si, ho scelto. questo momento, non c'è il pieno. non c'è il pieno. non c'è il pieno. non c'è il pieno. si, ho scelto. grazie. grazie. siamo appena usciti da questo negozietto dove ho intervistato totalmente in maniera inaspettata questo signore proprietario e ci ha spiegato appunto di aver combattuto contro i gruppi armati durante appunto la guerra. è stata parecchio 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 pesante. stiamo entrando al monastero. monastero che è stato completamente distrutto durante la guerra e adesso però l'hanno ricostruito e non presenta appunto i segni della guerra. non ci sono contenti. se sei quando vi live in Syrila? sì, se si viva in Syrila. all'istitutto. io vivrò nel compagno della locura. a lavorare in misoglossa. a lavorare con mia famiglia. se credono si vivrò in Syrila è difficile essere una donna? o... non è difficile non è difficile vivrò in Syrila per un uomo o per un uomo o per un uomo. Do you have any problem as a woman or not? What's the most beautiful thing that you like here in Syria? I like it. Nature, nature. Communication, like you know the connecting to people, like dealing with people. Okay. It's way easier in Syria than any other country. If you had the possibility, would you leave the country or not? No, no, no. You stay here? Yeah, I stay here with my family. I go with my family out in Syria, it's okay. Without my family, no. No, you prefer to stay here. Yeah. Can I ask you how was the wartime here? I go to Damascus for six months. You were in Damascus. We've come here. Ah, okay. Yes, because Malula village was embedded by armed groups. Okay. So they stayed here for six months. Okay. They took some as hostages. So luckily the Syrian army was able to free them, then free the whole village of Malula. Then people came back from all other places to Malula. Yeah, last question is maybe, what's your dream? I dream the health. Okay. Yeah. I want to learn language. Which one? Which one do you want to learn? The complete English language and Russian language. Oh, Russian language? Yeah. Okay. Now I am studying the Russian language. Oh really? Yeah. So you can talk in Russia? A little bit. Hello. 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 How are you? I am. I am. I am. Oh, what's your name? My name is Mrim. Oh, okay. I do not know what. We are trying, you know. Yeah, yeah, we are trying. Would you suggest to people who come here in Syria? is very beautiful village and yes it's totally safe she's forgetting all the oh it's okay don't worry just be very good so shukran shukran shukran